Salve a tutti e bentornati a Shadow of the Beast E' tempo di andare nella palude putrida Si, sempre normale Ah, non so, le mie difese sono veramente scarse Si, questo l'avevo capito L'ultima volta è stato un livello veramente carino Quello del Bosco delle Triadi Ottenere medaglie di Platino negli incontri di Fornirai di Seer Ah Noi abbiamo sacrificato, cioè abbiamo divorato un'anima innocente Non avevo tali esmani Che cosa strana, non è un pratono Però mi li dava tutti e tre vuoti Aspettate un attimo Talismani qui per... Torniamo alla mappa Scusate, eh Perché avevamo effettivamente sbloccato un talismano la volta scorsa Credo Sì, 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 sì Ricordo Eccolo Che strano Oh Ups Ok Diciamo Valute putrida normale Questa cosa del... Dell'anima innocente Mi ha un po' i necroschiavi Ah, ok Adesso ce l'abbiamo Sembra piacevole questo posto Wow Hai visto? Quella specie di È proprio mortale questo Vieneda Questa è un po' i necrosi Ah Ah Oh Mm Poi dietro che cosa c'è? Ahà Un'altra Un altro sangue Un altro sangue Strano Ahà Wow Ah Cavolo Dannazione Ah Finalmente Wow Ahà 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 Oh, oh Ah, cavolo Annazione Comunque queste creature Mezze macchine Mezze creature sono stupende Guarda dove abbiamo trovato un sigillo Lontana di sa No No Effettivamente Cioè è un misquidio Veramente particolare Oh, oh Mezze macchine Mezze esseri organici Siamo arrivati, eh Alla resa dei conti O anche no 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 Beh Dove far fare la catena di sangue E mi darai un bel po' di energia Eh, eh, eh Uh No Cavolo Che non li vedo quando stanno sott'acqua Nooo Ah, già non avevo sangue Bastardo Oh, oh Oh, oh Oh Ah, ok Fortissimo Ah Ah, cavolo Te ne è andata meglio, no? Ah, ok Uff Oh Oh Preso in testa Eeeh Grande Grande Vorrei andare a massacrarlo Ma sono curioso di vedere Che cosa c'è qua dietro Se è il posto giusto Per lasciare dei segreti Eh, sapevo L'avvertimento Ne ero rimasto ipnotizzato prima Finalmente Oh Ancora vivo Ah Stava tentando di raggiungere quel posto Ah Ah, è finito così Ah Non si riesce ad aggiornare Vabbè, fa niente Un'altra L'avvertimento La caduta di Zelek Fontana di sangue Il sangue si rigena Ma lenta Andiamo lì un attimo a vedere questi Perché sono Sono molto strane come creature Quel talismano lo voglio Quello che rigenera l'ira Al di fuori Il sangue al di fuori Dei combattimenti Dice lentamente però Insomma Allora Ah, già Mi deve Le stesse aride Beh, comunque dai Abbiamo un milione e tre Ah, abbiamo trovato un Un elisir Chiamano elisir Giusto? Allora, intanto scusate Per curiosità L'ultracentenaria Regina delle Driadi È diventata saggia Astuta e ferocemente Protettiva Nei confronti Dei suoi sudditi Tutti i membri Della sua prole Scoprì la terra Delle Driadi Quando era ancora Una ninfa Incuriosita da titani Che abitavano il luogo E dai loro strani macchinari La regina fondò Il suo regno Sulle loro spalle Impringionandoli Con la sua magia Impedendo loro Di fuggire Al loro sogno Constatato il potere Di Malethoth La regina Giunse a una trega Con lui E il consiglio Dei maghi Per impedire La destruzione Della sua gente La sovrana Sapeva che Questa difficile Alleanza Sarebbe durata Finché Malethoth Avesse considerato La sua gente Utile e servizievole Col tempo La sua scaltrezza L'ha portata A incubare Una nuova generazione Di ninfe Che intendeva Inviare Segretamente In terre remote Nella speranza Che possano Sfuggire All'inavidabile Genocidio E ristabilire La razza Le diele Già come era Successo Da queste altre Creature Che hanno state Complimenti Massagrate Yon-nok Enormi creature Che pascano Però le chiama Creature Che pascano Nelle paludi Di Karamon I colossi deniani Usano le loro lunghe Proboscidi Per succhiare Sostanze Nutrienti Dalle acque Sottostanti Queste strane Creature Sono giganti Pacifici Che si aggirano Pacatamente Fra gli alberi E chiamano I propri simili Con lenti E canti Dirici Ah ecco Da suoi dei creature I nepomorfi I nepomorfi Scusate Guidassero i colossi Verso acquitrini Più abbondanti Per il pascolo Ah Alcuni ritengono Che i nepomorfi Siano le femmine Della specie E i colossi Maschi Non è chiaro Di cosa si nutrono Né di come Riescano a volare Alcuni cercatori Credono Che i nepomorfi Siano prototipi O la fonte Di ispirazione Per le aeronavi Degli Anixreed I nepomorfi Sono in grado Di atterrare E camminare Per vevi Distante Ma solitamente Si possono trovare In volo Sulle cime Degli alberi Che popolo Non è strano I peludi In cui sono confinate Veramente stranissimi Comunque Dov'è? Eccolo 500.000 Ah Beh dai Stiamo messi bene Alcuni sono legati Non ci avevo fatto caso L'ho vista adesso Altri sono singoli Come questo Possiamo comprare Un'altra abilità? Punti chiave? No Li terrei punti Bene Direi che per Questi episodi è tutto Grazie a tutti E ci vediamo presto 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 con un'altra puntata Di Shadow of the Beast Ciao ciao